Buonasera, benvenuti a questa puntata di Instant Book, idee e scritture per il futuro. Ospite con noi oggi Paolo Cilfone di Puglia, eccellente. Allora Paolo, Puglia eccellente, se ne parla tanto, che cos'è? Guarda, è un'idea che è nata in maniera molto causale, in maniera molto semplice. Avevo la possibilità di lavorare a Milano, questa idea di allontanarmi dalla mia terra non mi piaceva molto. Sono rientrato a Bari e la cosa che ho notato... Tu sei entrato a Bari dopo aver studiato alla Bocconi. Alla Bocconi, sì, ho preso un Executive Program in Leadership e in General Management. La spinta che mi ha dato la possibilità di creare questo web magazine è questa. Viaggiando non solo a Milano ma un po' in Italia e anche all'estero, la Puglia era sempre legata al turismo, era sempre legato a questo tipo di concetto. Stiamo vedendo alcune pagine di Puglia eccellente. Dicevo che questo tipo di approccio non mi piaceva perché la Puglia poteva offrire tantissimo, conoscendo alcuni colleghi c'era un know-how culturale elevato. Allora, parlando con mia moglie, un giorno a Toramare, a Bari, in un bar, ho detto perché non diamo visibilità a tanti ragazzi che vogliono emergere, però hanno, per tanti motivi economici e altri motivi, dargli visibilità al loro talento. In giro di due tre mesi abbiamo impiantato un po' tutto il progetto, lo sviluppo del magazine, lo sviluppo della redazione. Siamo a Bari, a Bari Centro. Soprattutto ho voluto dare dei connotati ben precisi. Innanzitutto ho voluto dare, oltre al concetto di talento, ma intorno a loro ho voluto creare tutta una serie di informazioni, di magazine. E poi è il concetto che sta anche nel nome della testata. Esattamente, di eccellenze. Però l'ho voluto declinare anche in talenti polliesi e ho creato, come dicevo, la redazione fatta di ragazzi anche che studiavano a Milano che poi sono scesi qui a Bari. Tutti li sei importati. Sì, esattamente. Ho fatto il contrario di quello che succede abitualmente in Puglia. Siamo quattro persone, poi una serie di collaboratori esterni, poi una squadra di videomakers. E niente, la scelta, la mission è quella di dare notizie top della Puglia. Infatti, in fase di start-up del progetto, ho deciso, insieme agli altri, di eliminare notizie un po' di politica, di attualità di cronaca. Esattamente, perché comunque c'era abbastanza informazione, non era fagocitato il mercato. Sì, siamo anche un po' appesantiti da questo surplus di informazioni di cronaca e politica. Infatti, saremmo stati uno dei tanti. Invece noi ci volevamo distinguere. Ebbene, abbiamo creato il canale talenti ed eccellenze, perché comunque la Puglia ha un nome legato ai tantissimi attori che io ho intervistato, parlando di Lino Banfi, di Sergio Rubini, di Scamarcio, di Gianrico Carofilio, grande scrittore locale. E insieme a questo abbiamo dato notizie legate a loro, alla loro attività, e a un discorso più culturale della Puglia. E un discorso anche più economico della Puglia. Questa idea è piaciuta. È stata anche per me una sorpresa. Abbiamo profilato più di 80 personaggi, fra eccellenze e talenti, talenti di tutti gli ambiti, cultura, scrittori, ricercatori scientifici, musicisti, ecco, a 360 gradi. E la scoperta è che innanzitutto abbiamo trovato dei talenti anche di 50 anni, anche 60 anni. Ho scoperto informazioni stupende, anche emozionanti, di cui invito il pubblico a sfogliarle nel nostro web magazine, e insieme, ripeto, insieme a questo abbiamo avuto il piacere di conoscere anche persone che veramente danno lusso alla nostra religione. Il nome che ho detto insieme anche a Renzo Arbore, con cui ho avuto un rapporto molto privilegiato, simpaticissimo. Il progetto è andato avanti, siamo cresciuti, la redazione stessa è cresciuta, e adesso ci siamo affacciati ad un altro canale che ritengo opportuno dare visibilità, che è il Lifestyle Pugliese. Abbiamo un canale proprio dedicato al Lifestyle, che non è solo turismo, ma è tutto ciò di bello e di curioso che può nascere in Puglia. E c'è tanto, tanto da scoprire. Ecco, noi forse siamo rimasti un po' a livello superficiale della Puglia, guardiamo un po', forse noi pugliesi non riusciamo neanche a esportare tanto il brand Puglia. Noi quello che facciamo... Ma non l'abbiamo ancora creato questo brand Puglia? È una battaglia che io sto facendo, battaglia in senso, visti i periodi, anche pacifica, cioè quello di far vedere che non è, come dicevo prima, il solo turismo. C'è tantissimo, ci sono tantissimi ragazzi che hanno delle idee brillanti, che purtroppo non riescono a atticchiere qui in Puglia, non riescono a mettere radici in Puglia, allora tendono a riuscire. Paolo, secondo te perché? La mia esperienza è questa, visto che l'ho vissuto un po' sulla mia pelle. C'è un problema innanzitutto culturale. Ahimè, devo dire che il tessuto connettivo imprenditoriale locale pugliese talvolta non è pronto ad accettare le nuove idee locali. Tu sai che quasi il 75% degli imprenditori pugliesi, che poi sono quelli che dovrebbero anche farsi pubblicità su dei magazine come il tuo, ha malapena la terza media. È un dato che ci è stato concesso un paio di settimane fa. È un dato che io ti sottoscrivo, perché io personalmente curo, perché ho voluto decidere così, curo i rapporti con i nostri inserzionisti e devo dire che ci sono delle difficoltà a spiegare che cos'è un web magazine, perché abbiamo scelto una piattaforma web invece di essere un magazine tradizionale, cartaceo. A far capire che comunque i potenziali clienti, cioè gli utenti del web magazine, ci sono. E sono numerosi e c'è una circolazione che va oltre il passaparola. Ma i dati che oggi ci forniscono è che tutto il discorso di advertising è già spostato sul web. Ormai gli investitori nazionali, ma parlo anche a livello internazionale, qualcuno l'abbiamo anche all'interno del nostro web magazine, spostano le loro attenzioni sul web, perché il web ha delle velocità, delle logiche diverse rispetto ai media tradizionali. E oggi, vista la velocità dell'informazione, la velocità di compartecipare a certe informazioni, il web è il primo media scelto. Ci sono momenti di crisi, di restrizioni, ma credo che questo è il passaggio obbligato, sia nostro, che forse l'abbiamo anticipato, ma anche di coloro che vogliono investire, non solo su di noi, ma vogliono investire sulla advertising. Quindi c'è una difficoltà a reperire inserzionisti che comprendano la facilità della comunicazione attraverso il web. È difficile far comprendere che è giusto far passare la pubblicità sul web. Nel momento in cui si supera questo scoglio culturale che ahimè vige ancora in Puglia, A furia di insistere ovviamente. Certamente, e allora i passaggi più brevi. La difficoltà del muro di gomma che troviamo, trovo perché ripeto, ma non sono l'unico, che accerta questa informazione, che ancora siamo deboli da questo punto di vista. Ancora il web è visto con molto sospetto, con qualcosa che si può evitare. Tu pensi che ci siano delle responsabilità delle istituzioni pubbliche in questo? Ma no, io credo che, anzi, io ultimamente vedo che la regione Puglia, e noi, e parlo in maniera molto apolitica, ha fatto molto, bisogna essere onesti. Si, ha mostrato un interesse al web. Bisogna essere onesti, bisogna essere onesti. Anche la campagna che ha fatto il nostro governatore è stata piantata al 90% su web. Obama ha piantato il suo successo principalmente su Facebook. E lo stesso Facebook ancora oggi è visto come un luogo di divertimento e di ricerca. Se lo fa pure Bin Laden. Eh certo, ma non solo, forse ce lo fa anche Gaddafi, ultimamente ha girato un video viral molto, molto interessante, molto divertente. Facebook, noi lo riteniamo, visto che abbiamo più di 4.000 fans che ci seguono e sono molto attivi, molto attenti, Facebook è la piattaforma logica e interessante del futuro dell'advertising. Tanti brand internazionali hanno capito, ma ripeto, sto ripetendo un po' gli studi che io seguo a livello web internazionale, tutti gli advertising, dicevo, stanno spostando le loro forze su Facebook perché il Facebook è come gli anni nostri degli anni 70, è il passaparola più interessante. Come la piazza. Come la piazza, ma Facebook, la logica Facebook è terminata della ricerca dell'amico, dell'amica, quella percentuale è diminuita. Adesso Facebook è una piattaforma di business. Sì. E noi vogliamo essere attenti. Quindi c'è, come dire, una mutazione della natura. Certo. Delle funzioni di Facebook. E questo ovviamente favorisce chi come te su Facebook vuole stare sapendo che vuol traghettare dei contenuti nuovi con un contenitore che è classico per il web, ma non diciamo per la realtà concreta. Certo, perché Facebook, parlo Facebook come social web, come incontro, ma io ritengo, è quello che noi stiamo pensando, che il futuro prossimo, proprio prossimo, sia il mobile. Il mobile, sicuramente. Sì, assolutamente. Il mobile, noi abbiamo avuto già delle richieste per i nostri content, delle nostre realizzazioni video, è lì. È lì. Io, quando sono stato ultimamente a New York, ho vissuto tutta la mia esperienza redazionale da New York quando mandavo i contenuti in redazione via mobile. Quindi, diciamo che Facebook è la scusa, diciamo, è il giusto tramite, ma io immagino che il web e il mobile è il futuro dell'advertising, non solo pugliese, e qui bisogna lottare molto, ma ormai è del mondo. È lì che sì. È lì che... E lì la Puglia rischia di essere scavalcata da altre regioni dei sud del mondo, e non di un paese come l'Italia. Ci sono delle nicchie clamorose di successo. Io parlo di India, parlo del Libano stesso, parlo anche parte della Turchia, parte dei nostri rimpettai, c'è l'Albania che sta aumentando moltissimo le loro connessioni, quindi i giovani albanesi con cui ho avuto modo di parlare hanno delle idee brillantissime. L'invito che io posso fare alla Regione Puglia, ma ripeto e sottolino a livello politico, di essere attenti a questo tipo di movimento, perché non vorrei che la nostra Regione, con il suo potenziale, ripeto, non solo costiero o solo turistico, ma proprio di concetto di creatività pugliese, possa perdersi nella non conoscenza della cultura sul web. Io insisto molto con chi parlo, che le aziende devono vedere il web non come un nemico, un qualcosa con cui perdere tempo. Quindi andrebbero stimolate le aziende a comprendere la necessità di stare sul web, perché la circolazione di informazione avviene sempre più attraverso il web. Il web ti fa vedere, ti fa conoscere. Ti dà una visibilità immediata. Esattamente, insieme al media TV, che rimane comunque tradizionalmente forte, ma il web è quello che è, insomma. E l'internet TV è il passo che siamo ormai... A me sembra che la TV stia diventando la stampella del web. Sono due mondi di vedere, lì ho il concetto di advertising. La TV è tradizionale. Secondo me, il media web, a lungo andare fra 10 e 20 anni, lo ingloberà. Ormai lo sta già inglobando. Ormai nascono già i primi televisori web TV. Cambia gli investimenti. Io credo che questa fusione TV e web, finalmente, ma ripeto, parlo a livello non solo locale, ma a livello nazionale e internazionale, tutti gli investitori andranno... Ci sarà una rigenerazione, diciamo, economica e finanziaria verso il web. Verso il web. Ne parliamo nella seconda... Meglio, ovviamente, nella seconda parte di questa puntata di Instant Book, tra pochissimo. Meglio, ovvero, 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 ovvero Grazie a tutti.